Il sindaco De Magistris, intervenuto per un saluto, ha rilanciato l'idea delle Olimpiadi della Magna Grecia con lo sport come ponte di dialogo fra i popoli e le culture del Mediterraneo. De Magistris ha poi chiesto che lo stadio Collana sia incluso fra gli spazi per le universiadi del 2019, un'occasione per restituire la struttura ad una piena fruibilità cittadina. Può essere una grande idea, ha commentato Malagò, far svolgere le gare di atletica al Collana per riportare lo stadio agli splendori del passato ed eliminare la pista di atletica al San Paolo. Grazie a tutti.